La prima gara ufficiale della Paganese è un pareggio, c'è ancora tanto da lavorare? Sì, lo sapevamo, dispiace perché potevamo chiuderla prima e abbiamo avuto due o tre occasioni per fare il 3 a 1, questo non è successo. Abbiamo affrontato una squadra che gioca da un anno insieme e ci ha creduto fino alla fine e è stata premiata. Cosa è mancato nel secondo tempo? Abbiamo visto la Paganese in un primo tempo molto spigliata in avanti, in un secondo tempo ha calato molto difficilità. Sì, voglio dire, siamo ancora in preparazione, stiamo lavorando ancora con le distanze lunghe, il caldo era notevole e quindi ci siamo anche un pochettino accontentati. Pensavamo di poter portare a casa la vittoria, ma così non è stata. Potevamo chiuderla, dovevamo chiuderla, le occasioni ci sono state anche importanti. La strada è lunga, lo sappiamo e andiamo avanti. Penso che abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra, è stata una partita a viso aperto da parte di entrambe le squadre, la potevano vincere tutti e due. Io sono contento dei miei ragazzi per quello che hanno fatto, al di là del risultato. Questa è una squadra che in campo sa dire la sua, che poi c'è stato anche il risultato, ben venga. In questo momento a noi ci interessa soltanto che la squadra migliora di partita in partita. Oggi era un test per noi importantissimo contro una grande squadra, abbiamo saputo tenere testa a questa grande squadra con grande umiltà e con personalità. Lasciando stare a parte la Coppa Italia, cosa si aspetta dal campionato per questa arzanese? Noi partita per partita cercheremo di fare il massimo, senza assilli, senza niente, soprattutto andando in campo e soprattutto portando la nostra mentalità di gioco e di far emergere qualche giovane importante perché siamo una squadra giovane con qualche esperto importante, ma sicuramente andremo su ogni campo a dire la nostra, al di là di qualsiasi risultato. Grazie a tutti.